Ancora un incidente, ancora feriti sulle nostre strade, l'ultimo avvenuto alle prime luci dell'alba di sabato sulla Statale 7 tra Grottagli e Francavilla Fontana in direzione Brindisi. Violento lo scontro tra un tir e un'ambulanza privata. Ad avere la peggio e due operatori sanitari a bordo del mezzo di soccorso che stavano rientrando da Taranto dopo aver lasciato un paziente in ospedale. I due sono stati trasportati in codice rossa all'ospedale Santissima Annunziata, hanno 40 anni e sono di Francavilla Fontana. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Ancora tutte da chiarire le cause e le eventuali responsabilità dell'impatto che è stato davvero violentissimo a giudicare dallo scenario che si è presentato agli occhi dei soccorritori. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, per restare i feriti delle lamiere e bonificare l'aria, anche i carabinieri e altri mezzi del 118.